Salve a tutti cari amici e benvenuti con me in questo nuovo video Oggi siamo tornati su Team Fortress 2 Pronti a giocare in multiplayer Allora come al solito andiamo in Re della Collina E continuiamo questa nostra folle avventura in mezzo a cecchini e tanta gente che ci vuole morti Allora siamo su Harvest Fantastico Proprio la mia pronuncia sempre più E direi che possiamo iniziare con Con chi inizia? Col Pyro ovviamente Pyro is love, pyro is life Vale sempre questa regola proprio in eterno varrà sempre Allora eccoci qua siamo tornati su Harvest Partiamo col Pyro Ok Cos'era? Per un attimo ho visto una strana luce Ah ecco cosa vi volevo dire In pratica per ogni mia classe Ho messo degli occhiali speciali che fanno vedere tutto carino Quindi come vede il Pyro Ogni voce è più 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 Diciamo da bambino Come potete sentire E' sfizioso Sì l'ho preso l'ho preso Dai ridi 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 bastardo ridi ridi E niente quello scappa Dai guarda come ride E chiamano i medici ok Tu sei una spia? No Stiamo ridendo tutti quanti E' una cosa inquietante Ridono tutti E' abbastanza inquietante come cosa E niente Io sono l'unico che rido normale E' ancora più strana la cosa Perché normalmente dovrebbe essere il Pyro Il primo a ridere In una maniera Tipo Vabbè vediamo un po' cosa succede Ok 3 2 1 Si riparte forza Aspetta ma siamo con i tedeschi? No mi dispiace Non voglio far pace con voi Loll Ho ucciso due Solo perché rimanevano fermi Che divertimento Bello Bel divertimento Mi hanno ucciso male Va bene Ok Guarda là Come sono belli Come sono belli Razzi che invece che sparare fumo Sparano bolle di sapone Troppo sfizioso Io distruggo tutto Questa cosa l'ho messa per ogni classe Quindi Qualsiasi classe io metta Vedrà tutto carino e coccoloso Ok 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 Vaio Vaio Abbiamo vinto Abbiamo vinto Ce l'abbiamo fatta Godo 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 Ho forse detto Godo No Ok Cambiamo classe Andiamo con Lo scout Come potete vedere Sono quelli Gli occhiali Che fanno vedere Tutto strano Cioè sono inquietanti Gli occhiali E quello che fanno vedere Allora Vediamo un po' Dico a nessuno Allora Noi saliamo Ah no È il nostro amico Sorry Sorry frate Allora Tra poco si inizia Uh Acchiappacchiapp Ok Vediamo se riusciamo a farcela Abbiamo vinto Cioè se si inizia Già così Ok Eh ci Nascondiamo qua dietro E facciamo la cattiveria Più grande Oh cacchio Sono morto Wow Io Non ho tolto manco Metà vita Ma che schifo Ok Eh direi di andare Col medico Dai Giusto per Fare qualcosa Di sfizioso Per vedere Come sta il medico Con quegli occhiali Sono proprio Curiosissimo Ok Allora Mi son preso Quest'arma Che Ha una sola Uber carica Ma tipo Dura un botto Come Uber carica Ma è troppo È troppo sfizioso L'ingegnere Che fa Tegare È troppo Bello Raga Io adoro Questo nuovo oggetto Che mi sono preso Cioè troppo Troppo Bello Frate Non ti preoccupare E allora Medico Qualcuno ha bisogno Del medico Di là Chi Ha Osato Vabbè Andiamo con Il cecchino A questo punto Andiamo con lui Non mi importa Allora ho messo Sul server Della comunità Per questo Mi spammano Sul Nella chat Allora Vediamo se Riusciamo a Cecchinare Qualcuno Male Vedo razzi Che partono Non è un buon segno Stanno arrivando Vabbè Io avviso Poi Chi se ne Allora Vediamo un po' Cacchiarola Che paura Bastardo Per una spia Bene Io Ho la cara arma Che si chiama Pyro Che è capace Di individuare Le spie Anche se Sono invisibili Allora Can you please Leave me alone Minchia frate Che bel nome È proprio Ispira la gente A stare assieme a te Boom Vabbè Ho sparato a caso Allora Vediamo di Raggiungere I nostri cari amici Che ridono Tanto Da dietro E li scondiamo Di mangiate Cacchiarola Si 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 Sta crepando Sta crepando Sta crepando Non è Non è morto Stiamo vincendo O cosa Dove Overtime Giusto Aspetta Aspettate Aspettate che sto arrivando Sto arrivando Ok bravi rossi Tanto tra poco Riprendono tutto I miei compagni Di class Di class Di Chissà Chissà se ho ucciso Qualcuno Non ne ho idea Però La squadra avversaria Ha il possesso Adesso Fantastico Che barba è È una barba verde Ma che cavolo Ragazzi Sto episodio È qualcosa Di osceno Sto episodio È qualcosa Di osceno E abbiamo vinto Si è capito Cacchio Bastardo Mi ha ucciso Proprio quando Avevamo vinto Vabbè D'accordo ragazzi Direi che posso Concludere qui il video Se vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Se volete Terro le informazioni Riguardo al gioco Farevi qualsiasi tipo Di domanda Mettete sempre La hashtag Adopato poco Mettete mi piace Alla pagina facebook E seguitemi Sul sito ufficiale Del canale E ci vediamo Alla prossima ragazzi Spio 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 Spio